Un cumpleanno speciale per Cattolica nell'ambito delle festività natalizie, 100 anni del palazzo, simbolo della città, il palazzo comunale. Assolutamente sì, è veramente una grande festa perché come Cino Vancini volle, il sindaco che ha voluto la costruzione del palazzo comunale e ha fatto incidere la data del 1914, noi quest'anno celebriamo questi 100 anni della casa di tutti i cittadini di Cattolica con tante iniziative, un concorso fotografico, un album di fotografia dei cattolichini che hanno portato le foto e che è arrivato ad avere più di 300 fotografie, con persone che riempiono tutti i decenni, dal 1914 al 2014. Le visite delle scolaresche al comune e questa serata importantissima, una serata celebrativa qui al Teatro della Regina. Questo è anche un modo per richiamare tutta la città a partecipare, quindi a sentirsi ancora di più una comunità. Assolutamente sì, infatti anche nel libro che abbiamo pubblicato, in questa occasione un piccolo libro simbolico però con tanto significato dove dentro ci sono immagini del palazzo comunale storiche e quelle di oggi che hanno fatto i ragazzi che hanno partecipato al concorso fotografico, anche lì ricordiamo quanto è importante ricordare, quanto è importante la memoria perché la memoria ci fa diventare a noi individui importanti e la memoria storica, la memoria culturale ci fa creare una collettività e siamo noi una grande collettività e dobbiamo continuare a resistere anche in questi momenti difficili.